Allora, rieccoci qua insieme. Allora, vediamo un po', stavamo vedendo la direttiva delle case green, questi passaggi. Facciamo degli esempi. Facciamo degli esempi delle persone che dicono, vabbè, devo fare degli interventi a casa per far già un passo avanti, poco per volta. Poco per volta, incominciamo magari proprio a vedere quali tipo di soluzioni possono essere utili. Cosa si può fare? Che tipo di vantaggi portano? Perché è come il discorso sufficiente chiudere gli infissi, in qualche modo incasellarli, cambiare le finestre, eccetera, o bisogna fare interventi decisamente importanti dove si incune a questo? Ristrutturazione questa. Allora, parto sempre dal punto che ci deve essere un qualcuno che vi affianchi per fare questo. Da soli non fatelo, perché il cugino che sa tutto, no, perché il mio cugino, noi nel Veneto, no, sa tutto quanto, perché fa tutto in poco tempo e costa niente. No, noi nel Veneto, in tutta Italia, anche nel sud Italia, lì ancora di più. Sempre, no? Quindi il cugino esiste ovunque. Quindi ascoltiamolo meno, magari ne sa, non è che sia proprio incompetente, però ascoltiamolo un po' meno. Ascoltiamo magari chi ha fatto delle formazioni e chi è competente in materie, come quando avete male alla pancia, non è che andate dal cugino, sì, a volte, ma però se avete tanto male alla pancia andate dal medico. Quindi partite da questo qua. Punto primo. Punto due. La vostra casa avrà una sua storia, quindi avrà o i termo a muro, i termo sono in ferro o sono in ghisa. Avete un impianto fatto, la caldaia è datata del... Quindi qui bisogna chiaramente fare un'analisi e capire da dove partire. Dal punto di vista economico, chiaramente, perché cambiare una caldaia, tolgo e metto, ha un costo. Andare a montare, come vedete qua, un impalcato tutto attorno alla casa e farvi il cappotto con annessi e connessi problematiche di soglie, di marmi e via, ha un altro costo, no? Ok. Ecco, andare a cambiare gli infissi vecchi, quello che dico sempre, è mettere su quelli nuovi, non vi risolvono niente, o meglio, vai a togliere quello scambio termico che hai nel tuo infisso, ma la muratura fredda rimarrà sempre fredda e quella là vi porterà a casa tutta una serie di condense, di muffe, di umidità. Ecco, problemone, prima, dopo torniamo su muffe e umidità, questo è un problema molto frequente. Enorme, enorme. E questa proprio no, è la vecchia credenza che vado a sostituire il mio infisso vecchio con il nuovo e cambio la casa, non cambio, cambio qualcosa, sì chiaramente do un qualcosa in più, con questo 110 abbiamo visto anche infissi nuovi buttati via per metterne su altri perché non costavano nulla, abbiamo visto di tutto, però ripeto, va gestita la dinamica della vostra casa, è questo il messaggio, no? E come potete vedere con i materiali oggi che esistono sul mercato, li potete chiaramente capire da dove partire e magari anche, perché no, con il vostro tecnico potete venire in azienda da noi a fare un po' un briefing, un preambolo su come e su che cose, su quale strada prendere magari assieme per ottimizzare il costo o anche, come diceva Elena, andare a step, no? Quindi partire con una fase, una parte e poi per arrivare a, quindi non è che devi farlo tutto subito, un po' alla volta, non dimentichiamoci Elena e anche a tutti voi i telespettatori che c'è ancora una buona opportunità perché chi va a efficientare la propria casa gode del 65% ancora che comunque è un'ottima opportunità, ottima in 10 anni va a portarsi a casa più della metà dell'investimento, quindi insomma. Però non è più come prima, bisogna fare nella dichiarazione dei redditi, quindi deve ricordarsi che bisogna essere colui che può detrarre in fattura, no? Perché altrimenti. Dopo, chiaro che anche lì si farà una, magari c'è qualcuno che ci spiega. C'era il messaggio, mettere queste finestre isolanti, che poi non sono finestre ma sono, spieghiamola adesso, spieghiamo veramente bene, mi fa risparmiare sul costo del riscaldamento, ma quanto mi costano in più se faccio fare una variazione sul capitolato? Qui entriamo in una dinamica, quanto costa in più dipende sempre da chi abbiamo al di là della tavola, no? Perché questo, lo shutter box, penso intendesse il monoblocco termico, va a definire tutta una serie di lavorazioni che non servono più fatte, perché il cassonetto sopra non serve più, la cassa morta interna non serve più, le spallette, quindi il cappotto che gira all'interno non serve più, la gestione della soglia non serve più, quindi viene gestita tutta quanta con shutter box da repag. Anche la soglia? Anche la soglia, esatto. Quindi non c'è più la soglia in marmo? No, va gestita, va gestito l'isolamento termico della soglia, che può essere in marmo, può essere in quello che... Però quindi lì sono accordi col costruttore? Esatto, però questi qua bisogna sedersi un pochettino, la invito a contattarci anche in azienda o a farci visita con il costruttore della vostra casa per valutarne insomma anche l'aspetto economico e capire i vantaggi che ha il costruttore che sicuramente li sa perché li usa ormai quotidianamente e anche voi, quindi facciamo un po' un incontro e valutiamo anche col vostro tecnico e se la strada di andare a gestire il foro finestra con un prodotto brevettato come il nostro shutter box ha dei valori aggiunti e dall'altra parte se viene defalcato dal capitolato X che non so quanto... Certo, la posa in opera, stavo vedendo appunto degli operatori che stanno facendo la famosa posa in opera che richiede personale specializzato, qualificato e tante volte un lavoro viene vanificato se non è fatto da persone che sanno farlo e questo voi lo sapete benissimo perché la richiesta della... cioè il bisogno di mano d'opera è costante, qual è la situazione? La situazione è che il prodotto shutter box dovrebbe essere gestito dal seramentista perché lui è responsabile del foro finestra in toto, quindi il prodotto monoblocco viene venduto ai seramentisti che poi sono loro ad installarvelo, perché? Perché è una cosa molto bella che vi arriva già montato, il prodotto nostro, lo shutter box arriva già prefabbricato, come l'avete visto nella posa in opera, come? Dopo ci va la finestra. E dopo una volta fissato, eccolo qua, una volta fissato nel foro grezzo il prodotto shutter box va chiaramente finito col capotto esterno, marmi, soglie e via e poi ci va messa l'infisso alla fine, quindi ha già l'alloggio per il seramento. Quindi vuol dire che il seramentista interviene ancora prima? Esatto, nel foro grezzo, quindi va proprio a posare questo prodotto nella fase costruttiva, nella fase più delicata e va a togliere lavoro a pittore, muratore. Il pittore non dovrà intervenire forse perché deve dipingere tutto? Dipingere tutto sì, ma non deve girare il cappotto esterno o non deve gestire comunque una fase anche da parte dell'impresa edile di guide, cassonetto e... Ma il serramento quindi viene scelto e bisogna che il serramentista sia il serramentista che aderisce alla vostra proposta di applicare una... Sì, comunichi con noi le dimensioni del telaio e del proprio infisso e noi lo andiamo a fare su misura perché quel prodotto là viene prodotto sartorialmente per ogni foro in base alla spessore della muratura, all'infisso, al marmo. Quindi anche quando lei prima accennava le grandi pareti finestre, porte finestre che ci sono adesso in alcune abitazioni che sono molto molto grandi, anche lì se è necessario potete intervenire? No, lì andiamo a creare proprio lo shutterbox, questa cassa anche da 6 metri, quindi non abbiamo limiti di aperture, vi arriva chiaramente in base al cantiere se si riesce ad entrare con questa cassa molto grande, ma se... Ah perché non viene montata lì, arriva già montata. Arriva già montata, esatto, brava Elena. Quindi questa cassa qui, anche di 6 metri, ripeto sempre che si riesca ad entrare, vi arriva già montata, quindi la garanzia del foro è tutta da parte nostra, cioè la garanzia di termica, acustica e del foro è tutta nostra. Mentre del montaggio è del seramentista. Del seramentista o del muratore, è talmente facile. Che avete visto insomma. Noi infatti chiedevo appunto se ci voleva perizia oppure no per farla. No, no, è facilissimo. Proprio due questioni che però si rilasciano anche alla domanda che è stata fatta prima. Abbiamo visto in questo periodo una turnovere di manodopera impressionante per tutti i settori, mancanza di figure professionali in vari ambiti, alcuni più di altri. Dal settore dell'edilizia e attivi come sta andando? Sta andando molto male perché oggi le persone cambiano con una rapidità molto... Non c'è più una, come posso dire, una parte di attaccamento all'azienda e non c'è più il comunicare. Non lo so il perché, però oggi... Il comunicare in che senso? Il comunicare in che senso? Io penso che di problemi tutti i giorni ne abbiamo tutti quanti, no? Quindi se uno ha dei bisogni sicuramente li deve comunicare. Oggi abbiamo avuto qualche caso anche noi, dalla sera alla mattina non vengono neanche più in azienda. Non c'è un motivo. Vanno via. Perché? Boh! E non si presentano più. Perché c'è una difficoltà a chiedere, secondo me. Cioè, perché la paura del rifiuto, soprattutto in certe persone, eccetera, non è più onoverabile. Ferisce talmente tanto, secondo me. Magari uno vuole chiedere un aumento, vuole chiedere una massione diversa, vuole chiedere un qualche cosa. Anche il timore stesso che tanto venga detto no, si deve tanto per scontato, è più faticoso che non dire cambia la globa da un'altra parte. Ma lei mi insegna, Elena, che se non comunichiamo, vengono fuori le guerre, è vero? Assolutamente, se no no, ma infatti siamo in un periodo di grandi combattimenti. Domani mattina mia moglie parte e va via e non la vedo più. Perché? Boh! Di cosa stiamo parlando? Sì, sarà pur vero che ci sarà questa parte emotiva, però se non comunichi le tue idee, come puoi? Quindi voi non riuscite a interagire con queste figure? Sono giovani? Sono persone giovani? Ma per lo più giovani, tutte le età, miste, quindi diventa... Cioè, ma sento tantissimi colleghi miei proprio che la difficoltà oggi più grande sono proprio il reperire persone. E che queste persone siano persone del gruppo, siano veramente gente che fa squadra con tutti quanti, capito? E anche qui, oggi, e anche da parte mie in primis, beh, io ringrazio il bellissimo team, il bellissimo gruppo che ho in Repa, anche perché è meraviglioso da chi è lì da tanti anni, chi da meno, però, insomma, la squadra è veramente una bella e ottima squadra. E chissà che non contagie anche le altre persone. Comunque un problema diffuso, questo relativamente sempre al discorso che si faceva dell'adeguarsi a queste normative che verranno recepite della direttiva europea, sarà un problema perché manca effettivamente alle persone per poter attuare tutti i lavori di ristrutturazione che potrebbero essere richiesti. E quindi là c'è il grande punto di domanda. Enrico Capoghin, la ringrazio tantissimo. Lei è titolare di Repa, che lo ricordiamo. Abbiamo parlato dell'azienda, abbiamo parlato delle varie soluzioni e delle opportunità. Ci ritroveremo, naturalmente. Ringraziamo il nostro ospite e a voi grazie per aver partecipato con i vostri messaggi. La puntata la potete rivedere poi in replica, naturalmente, sul nostro sito. Grazie. Grazie.